Non ho capito, dimmi Sei preoccupato per la fine del mondo? Ah, per il gol di Rabioti ieri Lo capisco, lo capisco Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special Ma che gol ha fatto Rabioti ieri? Io scherzavo ragazzi, ve l'ho messo anche su Instagram la storia Perché avevo parlato anche durante la live di un Rabioti magari in crescita Anche su Carmi Special TV appunto trovate il link in descrizione E oggi faremo un'altra live dopo le partite del pomeriggio Quindi intorno alle 21.30 faremo una live Dove chiacchiereremo un po' delle partite che si sono giocate alle 19.30 E gufferemo anche con la fantaruota dei bonus per stasera Quindi vi aspetto in live ore 21.30 su Carmi Special TV Link qua sotto in descrizione Dicevo, sto gol di Rabioti l'abbiamo un po' chiamato Anche se è veramente qualcosa di spettacolare e sorprendente Così come è stato sorprendente diciamo il risultato delle partite di ieri Perché la Lazio perde a Lecce E la Juventus si fa ribaltare Cioè sopra 2-0 va a subire 4 gol in pochissimi minuti Quindi veramente qualcosa di clamoroso come partite Andiamo a vedere anche i risultati della scorsa giornata Quindi oltre a lasciare un bel like qua sotto nei commenti Raccontatemi come è andata la vostra trentesima E raccontatemi anche come siete messi al fantacalcio Come sta andando, spero abbastanza bene Ricordo che in descrizione trovate anche i miei social Oltre appunto al canale Carmi Special TV Sulla pietraforma viola E anche il nostro store, appunto i nostri social, va bene? Poi andiamo a vedere i risultati della scorsa giornata E poi analizzeremo i voti di ieri Per quanto riguarda la Lega Pubblica ragazzi Ho fatto schifo sta giornata 64.5 Circa 275esimo punteggio Anche perché molti forse stanno ormai mollando Altri avranno fatto schifo come me Però mi raccomando scrivetele sempre la formazione Adesso vi spiego anche il motivo Avevo Buffone in porta Mi ha subito un gol contro il Toro Da Clascosti mi prende 7 Boga a casa mi porta l'unico più 3 L'altro poteva essere quello di Martinez Che invece sbaglia il calcio di rigore Ragazzi quindi niente Ho sbagliato, forse non mette nei segni Ho voluto dare fiducia a Gervinio contro la Fiorentina Me ne sono pentito amaramente Peccato, peccato davvero In classifica generale 129esimo I primi 3 sono Villaggio del Sole 2373 punti Poi Tortenam a 2350.5 E poi Superstars 81 Torna terzo con 2345 Dai ragazzi non mollate Vedremo chi arriverà davanti Tra l'altro Villaggio del Sole E quello che ha il punteggio più alto Come record 104.5 Gli vogliamo far vincere pure sto premio Ragazzi no Cercate di superarlo Quindi schierate sempre la formazione Magari vi capita la giornata Veramente d'oro E vi portate a casa il premio del punteggio record Mi raccomando provateci sempre Andiamo a vedere adesso i miei fantacalcio Vi mostrerò quelli con l'asta Ok perché quelli a quotazione sono stati abbastanza blandi Poi vi ingiornerò strada facendo Quando ci sarà soprattutto magari qualche giornata particolare L'unica cosa che vi devo comunicare È che nel fantacalcio Quello a tema di One Piece Sono stato eliminato Proprio nella fase E eliminazione Cioè ho passato i gironi Con la somma punti Maggiore Avevo fatto un grandissimo campionato La mia rosa però era ormai a pezzi Scontro diciamo E eliminazione diretta Tra l'altro neanche da andate a ritorno Proprio A un turno unico La mia squadra ha reso abbastanza male Il mio avversario non ha fatto chissà cosa Ma sono stato comunque eliminato Andiamo a vedere invece il fantacalcio ad asta Come detto Nel fantacalcio mantra Ho vinto per 2-0 Si torna a vincere Grazie al gol di Quadrada appunto nel derby L'assist di Tonali di Buonaventura E il gol di Callion Tra l'altro Un buon 2-0 Nonostante l'assenza di Immobile Che era la mia appunto Diciamo Di sfondamento Insieme a Quagliarella Quindi senza le mie due punti principali Sono riuscito a portare a casa una vittoria In classifica Sono però ancora a podio 48 Un punticino da Marco E ancora distante Forse 8 punti Quindi qualcosa Ho riuscchiato alla Dea Ma sarà veramente quasi impossibile Andarlo a superare Mi accontenterei comunque del secondo posto Anche del podio Per come soprattutto avevo creato questa squadra Sarei anche soddisfatto A livello di somma punti Sono secondo E meriterei appunto la seconda posizione Passiamo adesso al fantacalcio Invece con i vloggers giuventini Dove ho pareggiato 2 a 2 Ragazzi Avevo fatto il gol di Caputo Il gol di Lukaku Che mi hanno consentito Poi di arrivare al secondo gol Peccato per il gol di Rebic Contro la Lazio Che avevo in panchina Ho fatto 71 e mezzo Qui A 71 Cioè a 71 Ti scatta già il secondo gol Perché la soglia di 5 punti Il mio avversario Fa 72.5 Ma con che gol? Con quello di Donnarumma Donnarumma all'ultimo minuto Ok Il gol del Brescia Ragazzi Mi ha veramente Ucciso Perché mi servivano Sti altri due punticini E poi Cioè io posso anche capire Giustamente il gol di Di Bala Posso anche capire Ma l'imbattibilità Tra l'altro Dell'altro Donnarumma Cioè i due Donnarumma Mi hanno ucciso Perché aveva segnato Aveva segnato Lazzari Lazio-Milan Ma gli è stato annullato Giustamente per il fuorigioco Visto che Luisa Alberto Ci ha messo due anni Per dargli il pallone Quindi maledizione Già senza imbattibilità Avrebbe perso due punti E mi sarei portato a casa la vittoria In classifica Sono ancora Terzo 44 La seconda posizione È più vicina A tre punti Mentre il primo posto È un po' più distante A otto Ma sono primo Per somma punti Anche qua Cioè nel senso Dovrei essere Praticamente in testa O almeno secondo Invece La sfiga nel calendario Soprattutto 50 Ripeto 50 Gol subiti Ragazzi Clamoroso In 28 giornate Niente da fare Ragazzi Veramente troppa sfiga Nel fantacalcio Invece con i miei amici Porto a casa Un pareggio Che sarà un po' Di sconfitte Per certi versi Nonostante i gol Di Calleone Di Cristiano Ronaldo E di Caputo Faccio 71 e mezzo Ragazzi 71 e mezzo Per colpa Di Lautaro Che mi sbaglia il rigore Poteva essere già 7 più 3 10 Invece prende 5 meno 3 2 Quindi 8 punti Potevo fare 79 e mezzo Consigli Mi subisce due gol Che fa? Non li vuoi subire Due gol Dalle Subiamo due gol Dalle Tra l'altro avevo Skorupski Come alternativa Invece fa il fenomeno E para un rigore Proprio al mio Martinez Proprio per Mariamente Farmela Diciamo Farmi imprecare E avevo Tra l'altro Ibrainwich Contro Lazio Preverito Avevo Zaccato Comunque l'attacco Contro Ronaldo Caputo E Martinez Invece no Martinez Se mania a rigore Ibra invece lo trasforma Faccio 71 e mezzo Come detto Quindi pareggio Potevo portarmi a casa Una vittoria Che sarebbe servita moltissimo Perché in classifica Ragazzi Sono ancora primo Ho rosicchiato anche Un punticino al secondo Perché il secondo Stavolta finalmente ha perso Alleluia E quindi vado a più 5 Ma sarei potuto andare a più 7 Che significava Veramente un piede Sulla vittoria Sono primo Anche per somma punti Quindi Bene così Cercheremo di resistere Però Quei due punticini Ce li ho qui Ce li ho qui Andiamo a vedere invece I voti di ieri Ragazzi Partiamo appunto Dalla Juventus Amarezza Amarezza e delusione Per i bianconeri Che erano tra l'altro Sopra di due gol La partita si stava svolgendo Come ci aspettavamo Avevamo analizzata Nel video dei fantaconsigli C'era una partita Comunque equilibrata Dove la Juventus Mostrava un po' più qualità Anche nei passaggi Nei triangoli Aveva trovato tra l'altro Un euro goal Il rabbio ragazzi Che effettivamente In queste ultime giornate È increscendo Anche perché Sarri sta dando più fiducia Lui la sta ben ripagando Poi ha fatto un goal Veramente capolavoro Cioè saltando diversi giocatori Un gran sinistro all'ingrocio Nulla da dire L'unica forse nota positiva Di tutta la Juventus Di ieri sera Oltre al solito Cristiano Ronaldo Che ha sfruttato Un'indecisione appunto Dei difensori del Milan Quadrato ragazzi Diciamo che a un certo punto Non aveva più benzina Gli spunta poi l'assist Fatto a Ronaldo Però a un certo punto Veramente non ne aveva più E Sarri l'ha sostituito Il resto Ragazzi Schifo Persino Bentancur Ragazzi Fatemelo dire Che ieri Mi è sembrato Meno lucido Del solito È stato Diciamo A parte Rabiot Il centro campo È stato comunque Abbastanza positivo Perché in alcune situazioni Ci ha messo una pezza Ed è stato comunque Buono Però rispetto alle altre partite Anche ieri Mi è sembrato Diciamo un po' Più impacciato Meno lucido Ha sbagliato Più del solito La difesa Ragazzi Mamma mia Rugani Non si può guardare Anche su Bonucci Ragazzi vi ho detto Di stare attenti Poi Diciamo È stato un po' sfortunato Anche con la cosa Del braccio Che causa Il calcio di rigore Quindi la rimonta Poi del Milan Però ragazzi Veramente tutti Inquartabili Gole regalati Anche quello del 2 a 2 Poi del 3 a 2 E del 4 a 2 Veramente Imparazzenti là dietro Anche Scesni È vero che ci sono state Le deviazioni Però forse Poteva fare qualcosa Di più Ecco Poi 4 gol subiti Chi ha messo Scesni Ragazzi Con duianza Perché io ad esempio Ce l'ho nel fantacalcio Mantra Ho avuto la brillante idea Di dargli fiducia Maledetto io Per il resto Un'altra delusione Di questa partita Ragazzi È Iguain Perché da lui Mi aspettavo qualcosa di più Invece mi è sembrato Completamente fuori forma Non mi è piaciuto Ragazzi Vedremo Poi quando ci sarà Di Bala Probabilmente Avrà ancora Quei 30 minuti A partire Perché Di Bala Tutta altra cosa Rispetto all'Iguain Che abbiamo visto ieri Per la Lazio Altra squadra Che ha deluso Che dire ragazzi A Cerbi Forse la peggior partita Della stagione 4 e mezzo Addirittura di danno Poteva anche prendere 5 però effettivamente È anche sua La responsabilità Sul gol Del Diciamo Di Lucioni Ecco L'altro voto Che non comprendo Forse è il 4 e mezzo Dato ad Immobile Che con il giallo Addirittura scende A 4 Sinceramente Mi sembra un po' Pesante Ho visto fare Ad altri giocatori Delle prestazioni Anche peggiori E prendere voti Migliori Quindi mi sembra Non dico Una incoerenza Nella valutazione Però secondo me Non c'è esatto Una costanza Cioè Soprattutto Una meritocrazia In alcune valutazioni Ha fatto una partita Da schifo Immobile Perché all'inizio Partita aveva avuto Una buona opportunità Poi ha sbagliato Molte cose Si è visto poco In altre Ha calciato Quando non doveva calciare Da fuori aria Da 35 metri Tipo Insomma Non nell'immobile Che conosciamo E sta pagando Ne stanno pagando Sia i fantallinatori E sono un po' Preoccupati Forse anche Per il rendimento Invece Calisedo Il più 3 Se lo porta a casa Con ammunizione Non è gran che Ma Già Per i fantallinatori E qualcosina Rispetto soprattutto Al 4 e mezzo Di immobile Quindi Bene Chi l'ha schierato Soprattutto Chi aveva Caisedo da solo Probabilmente L'ha schierato Chi ce l'aveva In coppia con immobile Forse è stato indeciso Se schierarli Tutti e due In alcuni casi Ad esempio Ve l'ho consigliato In altri Forse Ne avete messo uno solo Peccato Per il resto Ragazzi La Lazio Veramente Veramente Sta affaticando Mi è piaciuto Milinkovic Savic Perché è entrato In partita E un po' L'ha cambiata Cioè nel senso Ha trascinato Un po' La squadra Ha creato Diverse occasioni Gabriele è stato Strepitoso Altrimenti Milinkovic Savic Un gol L'avrebbe Veramente Fatto Quindi Peccato Per lui Però È l'unico Che mi è sembrato Più in forma Nonostante Venisse da Diciamo Un acciacco Luis Alberto Invece Non mi è piaciuto Forse il 5 e mezzo È quasi un complimento Perché si ha fatto Qualche buona cosa Ma poteva fare Veramente molto di più Anche in alcune situazioni Passiamo al Lecce Ragazzi Una delle migliori Appunto sorprese Di ieri Lucioni Ragazzi Ormai Ha capito Come Liberarsi In aria Quindi Ha stato Attenti Perché potrebbe Magari Metterne Qualche altro 7 e mezzo Più 3 10 e mezzo Oltre al gol Anche fatto Una buona partita Difensiva Così come Tutti i difensori Che hanno Si concesso Qualche occasione Ma dove L'hanno concessa C'è stato Poi Gabriel Che A parte I piedi Veramente Orribile Con cui ha Combinato un po' Di casino Anche il gol Appunto di Caicedo Per il resto Ragazzi Ha fatto dei miracoli Clamorosi Nel finale C'è stata una parata Col terzo tempo Assurda Mancoso Ragazzi Andiamo a Mancoso Perché Abbiamo giocato La ruota C'era appunto Su Mancoso La gufata Del gol Effettivamente Ragazzi Anche questa giornata Altri due partite Altri due rigori Uno dato da Guida E ve l'avevo detto Ve l'avevo detto Attenzione a Guida Che può dare Un rigore Un rosso Ed è così È stato Ma Mancoso Ragazzi Finalizzatore Cecchino Dal Dischetto Va a sbagliare Il primo calcio Di rigore Molti Fanto allenatori Probabilmente Ormai Lo schieravano Sempre Appunto Perché Lecce ha avuto Una marea Di rigori Ne ha avuto Un altro Ma non l'ha Sfruttato Questa volta Forse Forse è stato Un po' E' stato ipnotizzato Da Stracoscia Che non ha fatto Il movimento Per buttarsi E lui Che aspettava Quel movimento Poi L'ha calciato Malissimo Alto Quindi Peccato Per chi Lo ha schierato Altro invece Forse l'unica nota Negativa Ecco Alla fine Ha fatto Comunque una buona partita Però quel rigore Poteva essere pesante Perché Andava Diciamo in vantaggio Il Lecce In quel momento A fine primo tempo Poi ce n'è andato Con il gol di Lucioni Ok Passiamo al Milan Qua c'è molta cosa Molta cosa da dire Perché Abbiamo In difesa C'è la coppia Romagnoli Chier Da soli Stavano combinando Un pasticcio Clamoroso Regalando La vittoria Al Milan E al Milan Che so dire Alla Juventus Con quel gol di Cristiano Ronaldo Praticamente servito Su un piatto d'argento Paradossalmente Invece Hernandez Brutta La partita Per due terzi Poi nel finale Si è ripreso Alla grande Spingendo un po' Tenendo bene Il pallone Facendo appunto Anche Faticare Molto su quella fascia Alla fine La Juventus Infatti Quadrato È dovuto Uscire anche Per questo motivo Però nel complesso Non nella migliore Sua partita Per quanto riguarda Il centrocampo Invece Che si ragazzi È in netta crescita Sia dal punto di vista Tecnico E dal punto di vista Fisico Ok È sempre più lucido Nelle giocate Sia dal punto di vista Offensivo Sia dal punto di vista Difensivo C'è da dire Che il Milan Non mi era piaciuto Non mi stava piacendo Per gran parte Del match Poi Proprio anche L'ingresso Di alcuni giocatori Vedi C'è la Novlo Anche se è stato Quella che ha fatto meno Buona avventura Invece mi è piaciuto Ha fatto di nuovo Un assist Per Rebic Come contro la Lazio E appunto Anche che si Che nel complesso Ha fatto una buonissima prestazione Hanno trascinato Questo Milan A una rimonda Veramente Clamorosa Note altre positive Sono quelle di Leao E Rebic Più di Ibrahimovic Perché Ibrahimovic Ragazzi Fino al calcio di rigore Aveva fatto una partita Un po' anonima Forse anche da 5 e mezzo Secondo me Rugani Stava prendendo Un po' le misure Poi Con appunto Il calcio di rigore Riesce a metterla dentro Si fa sentire Comunque Presente Al punto giusto E poi viene sostituito Leao Invece Trova il gol Anche con un po' di fortuna Perché viene deviato Da Diciamo Da Rugani Sfigadissimo anche ieri Oltre che scarsissimo Però Ragazzi Entra Con un giusto impatto Infatti Addirittura gli hanno 7 e mezzo Più 3 10 e mezzo Sia per l'importanza del gol Che era quello del 3 a 2 Sia perché comunque Ha avuto un buonissimo impatto E la Juventus Non ci ha capito più nulla Addirittura poi hanno Costretto Alexandro A un errore Veramente grossolano Sul quale poi ha trovato Il gol di Rebic E voglio soffermarmi Un attimo su di lui Perché sta segnando Veramente quasi sempre A parte contro Chi era? Contro la spalla forse Che non ha segnato Sta segnando sempre E mettere un po' In difficoltà I fantallenatori Perché E' un attaccante Che magari Non ti gioca Tutta la partita Anche Rebic Ragazzi Non stava brillando Anzi Io pensavo Lo sostituisse A un certo punto Proprio per Leao O per qualche altro giocatore E invece no E' rimasto in campo Con pochi minuti La mette dentro Ragazzi Si trova sempre Al posto giusto Nel momento giusto Quindi E' un giocatore Difficile da utilizzare Secondo me Per i fantallenatori Dategli fiducia Proprio perché Il Milan Sulle ali Dell'entusiasmo E di questa Forza fisica Che sta avendo In questo periodo Potrebbe effettivamente Metterlo in condizioni Comunque di trovarsi Ancora nel posto giusto Nel momento giusto Quindi Attenzione a Rebic Ok potrebbe essere Veramente un trascinatore Per i fantallenatori Va bene Detto questo ragazzi Sono curioso di sapere Le vostre opinioni Qua sotto Nei commenti E in che Diciamo Rendimento Che rendimento Stare avendo Al fantacalcio Spero sia positivo Vi ricordo Ci vediamo stasera Intorno alle 21 e 30 Su Carmi Special TV Il link Lo trovate in descrizione Vi aspetterò Appunto per Parlare un po' Di fantacalcio E non solo Va bene Dai vi aspetto stasera Buona fortuna Ragazzi Per questa giornata Al fantacalcio Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti